Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video della vanilla hardcore Si ok è fantastico ma fantastico non è proprio diciamo che è più spettrale Perché ancora quel maledetto youtuber misterioso non si è fatto vedere Non riesco a capire che cosa sta architettando Mi avete dato un sacco di consigli sul video dello scorso video Cioè sul video dello scorso video Allora sul video dello youtuber Ma avete detto che forse potrebbe essere lui ma forse potrebbe non essere lui Quindi non lo sappiamo Non capiamo non riesco a capire Io lo sto aspettando ragazzi veramente da ore da giorni Non si riesce non si fa vedere Io non vedo l'ora di azionare la trappola Non so che cosa fare ditemelo voi mi raccomando Consigliatemi mettetemi un sacco di commentini qua sotto il video su che cosa possiamo fare Allora siccome dobbiamo aspettarlo e ancora non si fa vedere Avevo intenzione di costruire Non so magari un'altra stanza Che altra stanza possiamo costruire Oh che cavolo è Stupido scheletro t'ho visto Cosa pensavi? Allora pensavo di costruire tipo una stanza delle pozioni Perché ho lasciato tutte le pozioni a casa ok Se mi dovesse servire una pozione Magari in un combattimento Magari lo rivedo Che ne so Lui sembra immortale Se mi dovesse servire Almeno ho tutte le pozioni Ho la sala delle pozioni Mi posso mettere invisibile Ecco Oh no 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 È qui È qui No Non è possibile 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 mi ha trovato Non è possibile Ragazzi Era lui L'avete visto? Avete visto tutti che era lui? Era qui? No 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 Devo andare alla trappola Oh Non si posso credere Mi ha trovato Veloce Veloce Devo stare attento Perché mi potrebbe Spingere Non si posso credere Mi ha trovato Non lo vedo Mi servono rinforzi Devo chiamare Devo chiamare I miei amici Kendall Marci Devo chiamare qualcuno Non posso lasciare il computer Non posso Non posso Non posso neanche uscire Perché sapete da quanto tempo Lo sto aspettando? Dov'è? Aspettate Dove sei? Era qui Era qui Era qui L'ho visto Oh No 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 Me ne devo andare Me ne devo andare Me ne devo assolutamente andare Me ne devo assolutamente andare Ragazzi Me ne devo assolutamente Oh 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 No 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 Ok 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 Oh Sono uscito Sono uscito Sono uscito Non si posso credere Non si posso credere Non si posso credere Ok Chiamo Chiamo Kendall Chiamo Kendall Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Entra Pronto 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 Dimmi Puoi Puoi entrare nella vanilla core Eh Oh Eh no Non posso Sto cucinando Ascolta C'è lo youtuber Entrato Mi ha trovato Per favore Mi serve il tuo aiuto L'ho fatta Dai Devo andare Vabbè Se riesci vieni dopo Scrivimi Ciao 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 Porca misera Deve cucinare Proprio adesso Allora Aspetto Mezz'oretta Un'oretta E provo a rientrare Ok Riprovo a entrare Sto entrando Sto entrando Allora È passata Una mezz'ora Abbondante No 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 Mi sto chiudendo Mi sto chiudendo No Cavolo 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 Non si posso Credere Se mi ha trovato Mi ha trovato Non si posso Io non si voglio Credere Che mi abbia trovato Ha trovato il bunker Non si posso Credere Non si Non si voglio Credere Sa dove sono Mi ha trovato Sa dove sono Calma Bella fazza Calma Non farti Prendere dal panico Non farti Prendere dal panico Ma dov'è Ma dov'è Qui Perché non riesco A uscire Dai fammi uscire Fammi uscire Per piacere Fammi uscire Fammi uscire Dove sono Oh Squido luminescente Mi hai fatto Prendere Mamma mia Che paura Non vedo Nulla Non vedo Nulla Ragazzi Mio dio Si ha trovato Non si posso Credere Non si Posso Credere Si ha trovato Ma perché Io poi Ho le lanterne Ma perché Ho le lanterne Cavolo Allora Devo andare Assolutamente Da qualche parte Nel nether Non lo so Proviamo a buttarlo Nella lava È l'unica Mi viene da dire Che è l'unica Mi viene da dire Che è l'unica È l'unica Soluzione Io non ci Posso credere Non posso Credere Che mi abbia trovato Poi è sparito Non si sta più Facendo vedere In questo momento Come ha fatto Come ha fatto A trovare il bunker Come ha fatto Oh mio dio Di male in peggio Di male in peggio Bella faccia Di male in peggio Non lo so Forse nel land Sono al sicuro È meglio andare Nel land Forse Non lo so Non lo so Ho paurissima Ragazzi Ho paurissima Ha scoperto Il mio bunker C'è anche il temporale Non mi fido Non mi fido Di questa situazione Ha trovato Il mio bunker Segreto Apriamo la trappola Muoviti bella faccia Apri la trappola Ok 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 Dai Fatti vedere Casca dentro il void Casca dentro il void Forza Hai forse paura Mio caro Eh Mamma mia Mamma mia Non ci posso credere Non ci posso credere E non ci voglio credere Cioè come ha fatto Come ha fatto Come ha fatto A trovarmi Prendiamo un po' Di razzetti Va Ma come ha fatto Ragazzi Come ha fatto A trovare il bunker Io Io non lo so Com'è possibile Dove sei Ti Sto Aspettando Secondo voi Che fine ha fatto Tu sei fortunato Se cascherà qua dentro Sarà finita per sempre Per lui Ma che si sia arrabbiato Ok Youtuber misterioso Mai trovato Hai ottenuto ciò che volevi Mi puoi dire Perché sei così Arrabbiato Con me Perché sai Mi stai facendo Uscire fuori di testa Non si posso credere Ragazzi Io non ci posso Credere A trovar Come ha fatto A trovare il bunker Non ho fatto Vedere coordinate Non ho fatto Vedere nulla Non ho fatto Vedere nulla Non lo so Non lo so Che cosa faccio Starò qui Oh Allora Intanto Dormiamo Si può dormire Dite Mi fa dormire Mi fa dormire Ok Mi fa sempre dormire No Anche se c'è lui E' sparito Comunque E' sparito Ci sono i fulmini Di sopra Ed è sparito Ragazzi Continuerò a sorvegliare Il perimetro Continuerò ad aspettarlo Se dovesse succedere qualcosa Riattaccherò Il video Riattaccherò La registrazione Non vedo l'ora Di incastrarlo Sono sicuro Che ce la farò Ah no Era lo standardo Che si muoveva Da bella faccia È tutto ragazzi Mi raccomando Tenete gli occhi aperti Tenete gli occhi aperti Anche su quel profilo Teniamo d'occhio Tutto Veramente Ha trovato il bunker Quindi ho i minuti contati E ora E ora bella faccia Io vi saluto ragazzi Ciao Ciao Grazie a tutti.